Le emozioni sono forti, veramente non me l'aspettavo per niente di venire qua, infatti ringrazio la società, il direttore Vaira, quello del settore giovanile Melotti, il mister che mi ha dato questa opportunità. Io cerco ogni giorno di dare il meglio di me perché comunque devo darmi da fare perché la sede è ancora molto lunga. Questo ritiro per ora sta andando bene e all'inizio ho fatto un po' di fatica perché comunque i ritiri sono molto diversi da quelli delle mie categorie, però grazie anche all'aiuto dei compagni che mi stanno integrando bene sono riuscito comunque a prendere la forma e anche ad ambientarmi all'interno del gruppo e ora sta andando tutto per il meglio. Sai mi ha adottato i più i veterani, quelli che c'erano anche dall'anno scorso perché comunque qualche allenamento avevo fatto anche l'anno scorso e già mi conoscevano, però in generale anche i nuovi arrivati mi hanno accolto bene e diciamo sono entrato nella famiglia che si sta formando quest'anno. Fabio Gerli è sempre piaciuto molto, Marotta è veramente forte, però anche tutti sono forti e speriamo che questa stagione vada per il meglio.